Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, buon martedì 21 aprile a tutti. Vogliamo parlare di Marcelino, perché secondo quanto ha riportato La Repubblica, noto quotidiano e importantissimo quotidiano, Ralf Ragnick nonostante rimanga la scelta, la prima scelta per la panchina, ma il Milan ha, come tutte le altre società, si vuole cautelare sondando altri nomi. E secondo quanto riporta appunto l'importante quotidiano La Repubblica, il patron Singer, prima del blocco, prima del famoso lockdown, che ha colpito un po' tutto il mondo, ha incontrato a Londra il tecnico Marcelino Garcia e il tecnico spagnolo in questo momento rappresenterebbe, secondo quanto riporta questo quotidiano, l'opzione al candidato principale Ralf Ragnick. Quindi vogliamo un attimino raccontarvi chi è Marcelino, qual è il suo curriculum e perché secondo noi non, ripetiamo, non sarebbe l'anatore ideale per il progetto Rosso Nero. Marcelino, intanto una premessa, Marcelino è un grande professionista, non abbiamo nulla contro di lui, ma abbiamo dei dati, delle statistiche che ci in qualche modo suggeriscono che non rappresenta in qualche modo il profilo adatto al Milan. Marcelino è un classe 65, ha 55 anni, è un allenatore spagnolo, è un allenatore che utilizza come modulo principale il 4-4-2. Con questo modulo si potrebbe sposare bene con le caratteristiche che attualmente Stefano Pioli sta utilizzando. è un 4-4-2 mascherato, quello di Pioli in fase difensiva che diventa un 4-2-3-1 in fase offensiva, ma comunque le linee guida potrebbero essere simili. E già qui il presupposto, cosa apprende a fare Marcelino, si utilizza allo stesso modulo di Stefano Pioli. Quando poi scopriremo che le statistiche sono favorevoli all'allenatore italiano. Marcelino nella sua carriera da allenatore ha vinto solamente la Coppa di Spagna nel 2018-2019, quando si deve sulla panchina del Villareal. La sua ultima panchina, il suo ultimo club appunto è stato il Valencia, dove con, c'è stato qualche disguido tra la proprietà e la dirigenza, ha lasciato lui stesso la carica come allenatore l'11 settembre del 2019. Ha rivestito il ruolo di due importanti compagini spagnole, tra il 2012, stagione 2012-2013, fino al 16-17, è stato allenatore del Villareal. Sulla panchina del sottomarino giallo, così è soprannominato il Villareal, l'allenatore su 176 partite ha una media punti per partita di 1,73. Mentre successivamente, dopo l'esperienza a Villareal, è approdato al Valencia, dove è stato un anno e mezzo, dal 17-18 al 19-20, disputando 110 partite come allenatore, totalizzando 1,79 punti a gara. Quindi, facendo una media tra le ultime, possiamo dire, 8 anni di allenatore, come allenatore di Marcellino, possiamo vedere che la sua media è di 1,76. 1,76 che, moltiplicato per 38 gare in Italia, sono 67 punti di media. Stefano Pioli negli ultimi anni ha fatto meno, perché comunque ha allenato squadre, diciamo, di bassa classifica, o comunque non all'altezza, diciamo, del Villareal o del Valencia, ma, diciamo, nel complesso, ha raggiunto obiettivi più importanti come allenatore nelle squadre e nei rispettivi obiettivi. Cosa è successo? Noi abbiamo voluto confrontare, facendo 67 punti, quale sarebbe stato il piazzamento europeo negli ultimi tre anni in Italia. Abbiamo visto che la scorsa stagione, per andare in Champions League, l'Inter ha dovuto totalizzare 69 punti, un punto in più del Milan che, appunto, aveva totalizzato 68 punti. Nella stagione 2017-2018, sempre l'Inter, è andata in Champions League con 72 punti. Nella stagione 2016-2017 è andata in Champions League l'Atalanta con 72 punti. Quindi, in Italia, mediamente, per andare in Champions League servono una settantina, 70-75 punti per andare in Champions League. Perché negli ultimi anni abbiamo assistito, ah, le prime due della classe, quindi negli ultimi anni Juve e Napoli, fare campionati e portare, diciamo, il punteggio a circa 90 punti. Quindi si è alzata l'asticella. Marcellino, che tra l'altro è stato vicino ad andare all'Inter, è stato vicino ad andare all'Inter nel novembre del 2016, quando poi l'Inter gli preferì, guardate caso, Stefano Pioli. È un attore, comunque, secondo me, che in Italia potrebbe anche fare bene, ma comunque necessiterebbe di tempo per adattare le sue idee, per adattarsi al calcio italiano. Quindi il Milan non può perdere tempo. Le statistiche, in questo momento, dicono che in Spagna, un campionato che conosce, non ha mai totalizzato più di 70 punti con le sue squadre. Quindi in Italia, con un possibile avvio down, nel senso, facendo fatica a prime giornate, la statistica ci impone di dire che Marcellino, attualmente, non è un allenatore adatto per il Milan. Ragnic, invece, sì. Ragnic ha valorizzato lenti. Lì, in qualche modo, gli scova. È una media molto, molto più alta. È una media che si avvicina ai due punti a partita. Questo vorrebbe dire arrivare a 76-77 punti, che potrebbe, in qualche modo, vorrebbe portare la, vorrebbe dire, qualificazione in Champions League. Quindi, alcune statistiche che, in qualche modo, ci sostengono. Questa tesi. Marcellino, che rappresenterebbe il piano B. Tanti ci chiedono anche se Ragnic decidesse di fare il direttore sportivo. Secondo noi, se Ragnic decidesse di fare il direttore sportivo, l'allenatore potrebbe rimanere Pioli o potrebbe essere uno della sua, in qualche modo, scuderia. Potrebbe essere addirittura l'allenatore Nikesman, dell'Ipsia, un allenatore molto giovane, molto bravo, molto competente. Potrebbe, perché no, seguire Ragnic, se Ragnic non se la sentisse, di essere lui l'allenatore del Milan. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nero. Grazie a tutti.